Poi per il resto, quello che pensi tu e tutti, me lo sono sempre messo qua, perché io vado avanti con la mia faccia, perché non ho paura di niente, io so come sto, io so che in quella storia non ho sbagliato nulla, quindi vieni a giudicare un qualcosa che in realtà... Però la tua opinione la puoi dare in un modo diverso, la puoi dare in un modo diverso, tu lo dai lo sai come? Usando la cattiveria, perché sei cattiva dentro, hai capito come sei? Sei cattiva dentro, sei cattiva dentro, questo è, con me hai avuto sempre una cattiveria e un odio che non so da dove ti viene. Sono di coccio, non capisce, ma io non lo so come devo fare. Sono di coccio, sì. Non capisce. Tu continui a parlare e io non capisco, perché sono ignorante, secondo te, secondo te. Secondo me sei molto ignorante. Secondo te. E non è l'offesa dire, ignorare sai che cosa significa? Non conoscere una cosa, te lo spiego io. Non ti preoccupare, non ne conosco tante nella vita di cose, mi devi insegnare Roberta a conoscerle. Non capisci, ignori delle cose, non ci arrivi, quella è l'offesa. Ti dico pure questo perché sono piena proprio. Non mi offendo, non mi offendo. Guarda, sono proprio piena Lida. Non mi offendo. Sempre sono le stesse cose. E comunque quando tu dici a una donna che si mette in mezzo, non è un bell'appellativo quello che dai, capisci? Non è bello.